Cavalli del Merano 2019 Tanderman che non sente ragioni Continua a fare la sua andatura In seconda posizione guata Il favorito Cheston Honey A sua volta seguito dalla copia Formata da No Passerun all'interno Allarga invece Keep and Love Poi Zoman con le maniche viola A suo fianco in bianco rosso verde Bellamy e sempre a chiudere Passion Return Staccato di un paio di lunghezze Rispetto al resto del gruppo Cavalli che sanno portando alla piegata finale Con Tanderman che è il battistrato Fin dalle prime battute Andatura che è sempre rimasta assolutamente valida In seconda posizione si mantiene Cheston Honey Poi No Passerun e Keep and Love Ancora Zoman insieme a Bellamy E Passion Return Sempre in ultima posizione Cavalli che in quest'ordine Entrano in retta d'arrivo Gli 800 metri Che vedono sempre in vantaggio Tanderman su Cheston Honey Che rimane incollato in scia No Passerun e Keep and Love Che provano l'avanzata Anticipando Bellamy All'interno si butta Zoman E sempre a chiudere Passion Return Che adesso ha usato ancora un po' di tempo Rispetto agli altri Si accende la bagara adesso Con Cheston Honey Che va ad aggredire Thunderman Zoman all'interno Che doveva cercare i buchi Bellamy che si presenta Minacciosissimo a largo No Passerun Che va a fare a sportellate Con Keep and Love Cheston Honey Che va su Thunderman Che prova a difendersi Poi Bellamy Zoman No Passerun e Keep and Love Passion Return Cheston Honey Che prova a ingranare la quarta Per andare sul leader Thunderman I due si vanno a giocare Il Merano Con Cheston Honey Che passa su Thunderman Cheston Honey Doppio d'antologia Italia e Merano Al secondo Thunderman Al terzo Bellamy Poi Zoman Keep and Love Passion Return Il Merano